Dio. Dio? Come si può scordare Dio? Tutti quanti lo fanno, specialmente quando le cose vanno bene. In questi ultimi mesi ho ringraziato proprio tutti. Mia madre, la scuola, i miei amici, persino te, Blair. E mentre stavo camminando nel bosco, mi sono resa conto che il solo che non avevo ringraziato era Dio. E credo che sia venuto il momento di farlo. Se mia nonna ti sentisse parlare, ti pizzicherebbe le guance forte e forte. Cosa stai cercando di dire? Sta cercando di dire grazie. È un magnifico pensiero, Joe. Vede, signora Garrett, molto di più. Voglio dedicare a voi la mia vita. Tutta la mia vita. Voglio essere come Meg. Voglio diventare una suora. Voglio diventare una suora. Voglio diventare una suora. Wow! элемenti mar contrac- Grazie a tutti.